quando le creature più feroci del pianeta si incontrano faccia a faccia il risultato può essere a dir poco impressionante in questo video vi farò vedere degli scontri epici tra animali ripresi con le telecamere buona visione a tutti leone contro giraffa qualcuno di voi potrà pensare che un animale erbivolo come la giraffa non ha la minima speranza di vincere contro il re degli animali ma come potete vedere la giraffa non è per nulla un animale indifeso è in grado di far scappare persino un leone aquila contro capra può sembrarvi assurdo ma quest'aquila ha deciso che per pranzo voleva mangiarsi una capra adulta la tecnica di caccia consiste nello spingere la capra giù per la montagna e la forza di gravità farà il resto del lavoro peccato che spesso le cose non vanno come pianifichiamo mangusta contro cobra un morso di cobra contiene una quantità di veleno in grado di uccidere 15 uomini adulti ma per quanto potente il suo veleno se non riesce a mordere la mangusta è completamente inutile squalo contro polpo in questa ripresa questo squalo nuotava tranquillamente nell'oceano quando improvvisamente viene attaccato da un polpo e anche se normalmente il polpo e sul menu dello squalo questa volta è successo il contrario leone contro tigre in questo rarissimo video una telecamera notturna è riuscita a riprendere uno scontro in natura tra un leone e una tigre e dopo un lungo scontro il leone ha dimostrato perché viene soprannominato il re della savana coccodrillo contro pitone quando un pitone ha fame può letteralmente divorare qualsiasi cosa trovi sul suo cammino e in questo caso ha deciso che la portata principale del suo menu sarà un coccodrillo la tecnica di caccia del pitone prevede di avvolgersi completamente attorno alla sua preda per soffocarla e poi iniziare ad ingoiarlo tutto intero